ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video un altro video di nail art e ancora tipa la devo preparare adesso vi faccio vedere che colori andremo a utilizzare per questa nail art andremo a fare una scimmietta molto carina sperando anche questa cambiesce bene l'aquila comunque non mi è venuta male quella dei ieri mi piace molto ok quindi credo che anche la scimmietta ma dovrebbe venire bene comunque ok vediamo i colori che andiamo utilizzare allora come sfondo quindi per tutta la tip tutto colore unico andiamo a mettere il surf che è il fast f54 che sarebbe questo qui lo faccio vedere che dopo parte dopo lo devono utilizzare anche per gli occhi quindi questo poi andremo a utilizzare il nocciola il classic c49 chocolate fast f68 gioia classic c96 bianco vabbè per white fast f01 mimetico che un classic c99 amber f61 e poi son black che è il fast f16 questi sono i colori che andremo a utilizzare per fare questa nell'arte insomma per fare questa scimmietta io niente adesso preparo la tip e dopo cominciamo direttamente con il tutorial quindi ci vediamo noi a fine video vi lascio con questa nell'arte a fine video vi lascio con questa 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 Grazie a tutti. 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 Questo simbolo qua del Natale, infatti ho messo tre pallini rossi, c'è tre brillantini rossi. Va bene, comunque questa qui è la scimmiettina, molto carina, mi piace molto, io spero che piaccia anche a voi e se è stato così mettete il pollice in su. Fatemi sapere sotto nei commenti, c'è sotto a questo video cosa ne pensate e noi ci do un prezzo al prossimo video. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!